Salve a tutti ragazzi, buona giornata, speriamo che oggi sia meglio degli altri giorni qui da noi perlomeno non c'è più quel nuvolo e quel cielo nero però sembrerebbe abbastanza bella la giornata, più chiara, più soleggiata, meno freddo speriamo che ritorni piano piano il tempo buono perché è anche più piacevole andare in giro a fare l'indagine quando il tempo è migliore, quando si sta meglio perché con l'inverno si tribola parecchio di più niente, un piccolo video per darvi la buona giornata a tutti un abbraccio da Stefano del GRP e anche da tutto lo staff che naturalmente, anche se non c'è, io ne faccio le veci quindi vi saluta da parte mia ciao a tutti, buona giornata da Stefano